spettacolando di blu, Daniela Martani qui al Salone Margherita per la presentazione della stagione 2015 come mai questa? perché io sono la music selector della serata quindi io con la DJ peraltro io ti ho ascoltato cioè vedo spesso praticamente che sei aderente a musica sono molto bella, me la conoscevo questa, questo è inedito di te, dopo tutte le polemiche che ci sono state lascia nel tempo un po' ma però la gente parla senza che non ci segui, per tanto è farsi conosce per lui che sia veramente non so che sia come DJ peraltro, e anche questo che si è spesso in televisione per parlare del ciclo sì, sono andata al segretetto proprio, credo che c'è anche un video, perché il mio blog è vegan lifestyle.it e quindi condiamo questa cultura del rispetto degli animali perché è importante all'etica e oltre all'etica quindi si guadagna anche il successo perché non potrei venire io guarda qui, guarda che linea, guarda che linea però potrebbe essere qualche un'idea per mettersi in dieta, ci vuole fare bene la salute e la vita, giusto? sì 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 consigliamolo vivamente e ascoltiamo la musica di Daniela Martelli, stasera si fa ciao, spettacolano di tutti ciao